L'argomento di oggi è fondamentale. Che tipo di look avrà la vostra foto? Quanto sarà nitida e quanto sfocata? Volete catturare tutto il panorama o solo quell'albero alla fine della vallata? Ciao ragazzi, io mi chiamo Davide Scognamiglio e oggi vi insegno a scegliere la lente giusta. La scelta di un obiettivo rispetto a un altro è davvero cruciale. Ricordo che all'inizio quando dovevo uscire a scattare facevo dei veri e propri ragionamenti ma mi servirà questa lente oppure quest'altra e insomma era davvero complicato scegliere e spesso mi capitava di vedere una foto con gli occhi e non riuscire a catturarla per come l'avevo immaginata e sapete perché? Stavo utilizzando la lente sbagliata. Quando andiamo ad analizzare una lente per scegliere quale comprare o quale portare con noi dobbiamo anche prendere in considerazione l'apertura del diaframma. Ancora non vi ho parlato del diaframma, per il momento sappiate solo che nella lente ci sono delle lamelle che si possono chiudere o aprire a seconda delle vostre necessità, a seconda dei vostri comandi. Chiaramente l'apertura o la chiusura di queste lamelle darà un look diverso alla vostra fotografia. L'apertura viene espressa in F quindi vedrete un F1.8 oppure F6 e così via. Non vi spaventate, molto semplicemente un valore molto basso di F come ad esempio F1.4, F1.6 e così via significa un'apertura del diaframma molto ampia, molto spinta. Un valore di F più modesto come ad esempio 4, 8 e così via ci darà sicuramente indizio di un'apertura più ristretta del diaframma. Le lenti più modeste, ad esempio il 18-55 Canon, ha un'apertura sicuramente ridotta, 3.5 ma soltanto se siete a 18 mm. Come inizierete a zoomare fino ad arrivare ai 55 mm avrete un'apertura massima possibile di 5.6. Il bello delle lenti prime è che invece possono raggiungere delle aperture molto importanti a prezzi molto contenuti. Questo 50 mm Canon che costa poco più di 100 euro può raggiungere un'apertura massima di 1.8 e vi assicuro che tra 1.8 e 3.5 la foto vi cambia totalmente. Per avere un'apertura più ampia e magari costante su tutta la lunghezza focale dello zoom, i produttori delle lenti vanno a stravolgere totalmente il sistema di lenti presenti nell'obiettivo e si raggiungeranno quindi dei prezzi sicuramente molto più onerosi e delle dimensioni sicuramente non trascurabili. Qui potete vedere il 18-55 Canon lente kit e il 16-55 Fujifilm che è una lente sicuramente d'eccezione perché può raggiungere un'apertura di f 2.8 quindi niente male per uno zoom e lo mantiene su tutta l'escursione focale dai 16 ai 55 mm. Ma quindi dopo tutto questo discorso io che lunghezza focale dovrei utilizzare? È una domanda da un milione di dollari, dipende tutto dalla foto che volete portare a casa. Non dipende solamente da che tipo di fotografia volete fare, se ritrattistica, paesaggi e così via, ma dipende anche da che tipo di ritratti e che tipo di paesaggi volete fare. La scelta del tipo di lente dipende sempre da che tipo di scatto volete portare a casa e che tipo di storia volete raccontare. Adesso vi faccio vedere una carrellata di scatti per farvi vedere che non si può scattare ritratti soltanto con una lunghezza focale ma dipende tutto da cosa volete raccontare. Come regola generale ricordatevi sempre che minore è la lunghezza focale, quindi 16 mm, 18 mm e così via, più contesto inserirete nella foto. Quindi avrete magari un ritratto con una persona in piedi e introdurrete più contesto nella foto con lunghezze focali basse. Se andate invece sui teleobiettivi come 90 mm e così via isolerete totalmente il vostro soggetto, quindi estrarrete il vostro soggetto dal vostro contesto e quindi andrete a raccontare molto molto meno sul contesto in cui è emerso il soggetto. Dipende tutto dalla storia che volete raccontare. All'inizio lo so si ragiona ma per questo tipo di scatto mi servirà un 135 mm o un 16 o un 50 e così via. Io gli ho fatti questi ragionamenti, ve l'ho detto all'inizio, però vi assicuro che man mano che uscirete a scattare e farete pratica e vedrete come cambia l'effetto della vostra fotografia con le diverse lunghezze focali diventerà automatico, diventerà istinto. Lo saprete e basta. Anche per oggi siamo giunti al termine di questa lezione. Lo so che ancora non siamo entrati nel vivo della tecnica fotografica, ISO, velocità di scatto e così via, però ci tengo che la vostra preparazione poggi su solide basi. Come al solito se avete dubbi scrivetemeli qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui prossimi video didattici, attivate la campanella perché ragazzi il prossimo video sarà davvero fondamentale per la tecnica fotografica e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.